Credo che sia evidente che nelle due ultime partite siamo mancati in qualcosa, in attenzione sicuramente e determinazione per quanto riguarda la partita di Empoli, in lucidità soprattutto per quanto riguarda l'ultima partita con la Juventus. Io credo che usciamo da questa settimana, la squadra esce da questa settimana con ancora, se è possibile rispetto a prima, con ancora le idee più chiare. La squadra sa cosa fare e sa come farlo per ottenere dei risultati e sa anche cosa non deve fare. E' chiaro che noi domani, che oggi partiamo per Verona per la partita contro il Chievo per cercare di fare tre punti, questo è sicuro. E se c'è una squadra che deve avere più determinazione, più rabbia, più grinta, più cattiveria agonistica, voi sapete a chi mi sto riferendo. Non è il Chievo che arriva da due sconfitte. Non siamo noi che arriviamo da due sconfitte. Il Chievo che arriva da tre risultati consecutivi, con il nuovo allenatore ha trovato compattezza, ha trovato prestazioni, ha trovato risultati, non sarà semplice. La vogliamo giocare da squadra che mette in campo la propria identità. La vogliamo giocare da squadra che vuole stare dentro la partita per 95 minuti, approfittando delle proprie qualità e approfittando magari anche qualche volta di qualche errore degli avversari. Vogliamo giocare da squadra, da squadra che in modo concreto, deciso e determinato cerca a tutti i costi di portare a casa il risultato pieno. L'intervento della società e del Presidente è sempre importante. Il Presidente è una persona molto impegnata, molto occupata, ma che ci ha fatto sentire, che ci fa sentire, e si fa sentire sempre molto presente. E' venuto per stimolarci, per motivarci, per darci il sostegno e per aiutare tutti insieme a uscire da un momento, da queste due partite, da queste due sconfitte consecutive. Non credo che ci voglia un grande mago per domani, un genio per motivare la squadra. E le motivazioni ce le abbiamo, ci mancherebbe altro. Non siamo né in classifica dove vogliamo e nemmeno arriviamo, ripeto, da tre risultati utili e consecutivi, ma purtroppo da due sconfitte. Grazie. Grazie.